Buongiorno, buonasera, buonasera, forse tu sei senza testa, vado a vedere, come si leva? Adesso hai la testa, buonasera, ci si vede, purtroppo noi faremo sicuramente fatica a leggere tutte quante le cosine in chat per quanto riguarda Subber e Sub, è il primo del mese, quindi rinnovate tutti come delle bestie, Gabriele, dici Gabriele come siamo messi a volume, se dobbiamo alzare il volume nostro, se dobbiamo abbassare il volume di SIF o del gioco, tutte le sable e le sable verranno ringraziate dal buon Gabriele, che è una persona perfetta, come l'audio che ci dice essere perfetto, grazie Gabriele, sei una persona straordinaria, speciale, quasi al limite della bellezza sovrumana, grazie. È partito live train, quindi rinnovate tutti, no, lascia così, ferma, dobbiamo spegnere quella dietro però, spegni quella dietro, perfetto, ottimo lavoro, ottimo lavoro, quindi grazie a tutti, grazie a chi si abbona, chi si rinnova, chi crede di essere una persona diversa da quello che era ieri, grazie a tutti, grazie. Ma soprattutto grazie al sanguinaccio che mi ha fatto un bel regalo, goditi il regalo, spero che possa servire a lei la signora per controllare la bestia, il signor sanguinaccio, e ci ha regalato questa bellissima cosa che abbiamo già unboxato, in realtà... Una telecamera per controllare Sifettazzi e per spedirgli dei bonconcini, che per ora non ci sono, quindi... Sei tu Sifettazzi? Non guardiamo, anche se l'abbiamo trovato seduto al nostro posto, e quindi non so quanto possa essere. Funzionale funziona. Vedere, poi dopo non ci ha cagato di striscio, quindi sanguinaccio sei stata una persona fantastica, grazie mille del regalone. Hai speso un sacco di soldi, sei una persona esagerata. L'avevo visto in chat prima, adesso non so se è sparito, però... Ve lo ringrazio. Sì, salutato. Sì, c'era, c'era, l'ho letto prima. Saluta. Grazie a tutti per le salve, le salve ovviamente, non sono riuscito a leggere tutti, quindi mi sembrerebbe brutto ringraziare solamente alcuni, quindi grazie di cuore a tutti quanti, tutti gli altri, ti ringrazia. Gabriel. Finito anche il livello 2? Tu leggo anche tu? Finito anche il livello 2? Finito anche il livello 2? Dai, dai! Dai, oh! Non c'è carica, non c'è carica nessuno, non c'è fermato un po' di ordine. Guardi, ci sono i vini di scufezza. C'è anche la testa del fagiano di Sifra. Grazie agli altri, abbiamo anche un fagiano, chi vince stasera si porta a casa la testa del fagiano. Perché è l'unica cosa rimasta dopo oggi. Sifra. Diciamo che Sifra. Sei proprio un salame. E quindi vorrei anche fare un piccolo annuncio. Molte persone mi hanno scritto nei commenti sotto al video di Doom, Gatto guarda che ti è andata bene, il video è monetizzato perché vedo la pubblicità. Sì, confermo, il video è monetizzato, non da me. Tranquilli, chi percepisce quattrini è sicuramente il proprietario dei copyright. La canzone, cioè le canzoni, le canzoni scelte ovviamente sono state subito riconosciute da YouTube e c'è il reclamo di copyright. Lo sapevo, quindi quando sono andato a fare quel video, infatti è un video extra, un video in più. Mi ha fatto perdere il filo. Cosa parli? Cosa dialoghi? Che sto... Sifra! Che dialogo! Sto dicendo un video in più. È un video extra, esatto, un video in più. Sapevo che non sarebbe stato monetizzato, quindi l'ho fatto giusto per la gloria e per fare un bel video. Che poi è andato di merda! Ma questa è un'altra questione. Sono contento e grazie a tutti quelli che mi hanno detto che è uno dei video più belli che abbia fatto. Potrei fare molto di più se non esistesse il copyright. Ma giustamente esiste perché ho usato canzoni per intero e questa cosa non andrebbe fatta. Però, chi se ne frega dalla monetizzazione, il video era bello? Sì, a posto così. Siamo tutti contenti. Buonasera a tutti! Adesso possiamo cominciare. Buonasera, buonasera. Non ha più scritto poi. Eh... Boh, sì. Era prima in chat, non so dove era. Se l'ha dato proprio quando l'ho ringraziato? Si vede che si è imbarazzato. Non hai presentato i tuoi ospiti? Ho presentato i miei ospiti perché sono Ale Killinjook e Cap. Cap lo conoscete. Beh, entrambi mi vengono veramente tutte le mattine in live. Sì. Quando non lavoro io per me. Io sono Piergi, ciao eh! Ciao! Io a me non mi presento. Non sei ospite. Hai ragione. Cosa tu ha? Una lettera d'amore a Doom. Esattamente, Cicata. È stato proprio quello. Beh. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buonasera. Esattamente. Lui è Ale e lui è Cap. Li riconoscete perché lui è Ale e lui è Ale. Io sono Cap e lui è Ale. Lui è Ale e lui è Ale. E si fettone che non si fa vedere. Sì? Ma lascialo, lascialo lì. Che poi dobbiamo giocare ci prendiamo lì. Stai qua. Eccolo lì. Bravo. Eccolo. Sono le 21. Seduto. Partito. Sono le 21 quindi direi di partire su. Tu avete già giocato Mario Party. Bravo che sei. Bravo. Alla Campi della Wii. Ok. Idem. Allora quando scegliete il personaggio sappiate che ognuno ha un suo dado speciale. Che però non te lo fa vedere. Quindi non cazzi puoi. Non so già cosa prende gatto. Natalto ovviamente. Eh ovviamente. E io tipo timido. Io vado di buco. Avete scelto tutti più belli. Stati un po sulle valle. Vuoi tipo timido? Prendo Wall Luigi? No io prendo. Per il meme. Prendo Wall Luigi per il meme. Non so che tu devo prendere. Il raffare di Animal Crossing arriva da Gabriel. Ah devo prendere di nuovo. Che cosa c'è? Che faccia? Oh là. Vuoi scegliere anche tu un personaggio? Abbiamo così completato il livello 3 del live train. Quasi. Rinnovate. Quasi. Rinnovate. Mi tengo lasciato tra le valle. Anch'io. Seguirà c'è sparito per sempre. Sono un po' preoccupato. Allora. Ma sei emozionato tu? Ti è benvenuto. Ma perché mi dai benvenuto? Ma che cazzo vuoi? Ah giusto. Urrà. 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 Eeeh. Che posizione della squadra Giniu che c'è stata. Grazie Gabriel che ringrazio Alessandro. Grazie a tutti. Grazie a Gabriel dei ringraziamenti. Hai fatto il livello 3. Ho fatto il livello 3. Dai. Andiamo per il 6. Certo. Non sei moderno. Hype. Allora. Dove andiamo? Facciamo qualcosa di ficcante. Questo mi fa piccare. Questo qui è un po' sborone. Non è che ce ne sono tanti. Purtroppo. Questo meno Mario Party hanno deciso di stare un po' a ristrarmi. Allora questo l'abbiamo fatto l'ultima volta. Allora no. Questo l'abbiamo già fatto anche questo in live. Ci rimangono questo o questo? Le rovine mi ficcano. Ti rovinano le ficche? 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 Ci rovinano le rovine domino. Cosa non le vogliamo fare? Esatto. C'era il grano. Va bene. Andiamo ora. No, mandando la pizza. Bravo. 10 tour di circa 60 minuti. Sono le 21 e io direi di far partire ora. Se non ripremi però non parto. Adesso è partito. Non dico che fai sapientino. Perché siamo tutti piccolini tranne Yoshi? Perché hai tu Yoshi? C'è ragione anche te. Grazie a tutti per le sub. Grazie. Mi sembrava Denver, Denver. Infatti c'è un dinosauro verde. Allora. Sono io. È la prima avventura, gli diciamo di sì così voi vi infarinate? Dai, vai. Ma... Un problema. Vabbè tanto è un dialoghino veloce. Queste sono rovine antiche, a volte nel mistero. Chissà cosa servivano in origine. Vedi c'è una palla che rotta, la senti che ti vibra. Sì, vibra prepotentemente anche. Ci sono i bombi che bloccano la strada. Bruttissimi. No, no, no. Ma è terribile. L'avventista? Lui ti dice, ma non passi, però se mi dai due soldini... Ah beh, anche lui non fa le cose grandi. Un euro a piacere. Esatto, esatto. Ah, ragazzi, le insidie non finiscono mai da queste parti. Credo sia arrivato il ride, grazie al Thermos per il ride. Allora. Grazie al Thermos. Allora, sì, sì. Solo un che è Moro. Grandissimo. Che uomo. Sensazionale. Un'avventura impegnativa, vedi? Volevi sentire le regole, sì. Dai, spiegare le regole e magari vorrei capire. C'è una strega? No, è quello che spiega le regole. Tirate il dado e tirate avanti. Allora, se tu finisci nella zona blu... Termatevi sugli spazi speciali per ottenere monete. Ok. Il rosso ti da meno tre, il blu ti da più tre. Immagino. Questo è insomma i giochi. Ho cambiato, non ho capito più. Sono i giochi, vabbè. Terrete molto monete, clicco io. Ma c'è di più. Ho tagliato tutto, va bene. Ok. È bello avere un bel gruzzolo di monete, ma non basta per vincere. Perché serve il culo? No. No. C'erano le stelle. Per comprare le stelle però ti servono le monete. Quindi le monete sono importanti. E allora c'è un problema di base. Ma perché tu... Guarda com'è vero. Puoi avere 100 monete, ma uno con una stella ti fa il culo. Ah. Non capito? Mi è sempre stato sulle balle, Todd. Vi attendo un brillante futuro. Raccogliete le stelle e diventerete una stella. Bravo. Diventerai una star. Vedrai. Una celebrità. Sarà. Vediamo chi parte. È un. È un. È un fatto che gara è penultimo. Grazie. Cosa avevo detto? Niente. Che gara struccare però. Diciamolo. Ciao. Sono Boo. Devi prendere. Pardon. Parlo. 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 Io sono timido. Sei simpatico. Grazie. Car. 5 morti così. Ah... Bablet. Ricordate che he isenso anche la vittoria dove è la prima? Dicelo Dora. Ania Toadette è rinominata anche Cup è vero c'è stato un change su Mario Maker chi riuscirà a ottenere più stelle alla fine è poco importante chi fa più stelle perché tanto alla fine del gioco decide lui chi vincerà ebbene vediamo allora vedi ognuno c'è il suo dado c'è un dado normale e il dado Yoshi che fa 0,1,3,3,5,7 e noi andiamo con questo perché siamo fortunatissimi e poi ci rischia ma io posso usare il mio dado quanto voglio accettabile senza vabbè me li piglio e me li intasco io vorrei farti una domanda tocca a me no devo schiacciare devi selezione prima un dado normale o il tuo dado che ti può togliere un, due monete il tuo dado veramente sì posso fare l'estera ah no voglio usare quello normale voglio ho deciso che spiegare la boia ah ya puoi scegliere se andare a sinistra pagando o andare dritto però ha più senso ovviamente andare verso la spedola eh dritto sì eh eh vado a signora talpa ciao Corvo ciao Fabri ciao Fabri ovviamente un suo dado tanta talpa tuta tana mamma mia grazie a tutti per il per il ride per il ride non si chiama è finito un altro no no è finito proprio il ride ti metto vicino ah oh ma hai toccato il culo sì ah fammi vedere il mio dado vai tipo timido ho solo quattro scusami che dado è il mio eh beh ti può andare veramente male è nella media fai tu vada vai wow io oh io proprio bravo Gabriel potrebbe prendere la stella non sa no per una no come schiaccia andavo schiacciando ok adesso puoi scegliere per un fungo che cosa è cosa è un fungo un fungo ti dà un oggetto mi ha dato un fungo un fungo che ti dà più tre però lo devi usare prima vuoi decidere sanguinaccio grazie ancora ha arrivato chiede se abbiamo già utilizzato il regalo sì funziona vi ho ringraziato anche inizio live e nelle storie su Instagram grazie mille hai speso veramente un botto di soldi non dovevi grazie mille funziona l'abbiamo testato anche noi più o più volte oggi sì non riusciamo a fare meno di guardare la telecamera allora con questo mio questa è la prova ok ci si muove con questo ok e con il tasto si fide le robe ok va bene ho vinto no io ho vinto non hai vinto una scena dammi le tue sfere ah immagino che ci si debba anche buttare le sfere all'interno degli spazi del tuo angolo esatto 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 questo è il mio che c'è il mio va bene quando ci siamo tutto mi vai vai partiamo partiamo l'audio del gioco forse si sente un po' di rientro dell'audio del gioco abbastanza ecco qua eh no mi ha distretto il sanguinaccio no ma dai chi è merda merda tutto me 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 come 18 ma te sei un uomo di merda abbastanza oh via eh perché non funziona ma l'idea ma venti ma come cazzo hai fatto Ale va a fare ho preso tutto quello che c'è c'è un pezzo di cacca assolutamente sì mi sa che non funziona tanto bene perché non mi piace niente oh toglietti dalle balle toglietti ma ruba ruba bastano rubati ma a me mi stava giù la terra che la mia tanto torna su ah ogni tanto torna su ok un stilo se mi raccio non ho letto spero neanche avesse gli instagrams e io non leggo mai i messaggi su instagrams perdonatemi sei un po' triste lei è una persona gentilissima ho letto adesso ho letto al volo grazie mille scusa ho vinto è persona sanguinolenta quindi hai preso del soldo del soldo mh era normale dai vado yoshi oh iado ti devi fermare sulla stella basta che ci passi basta che ci passi no è facile prendere la stella e invece ci potrà parlare di paglia levati eh oh vinco io stasera eh chi ha vinto l'altra volta? no io vinco sempre non c'ero sì non so però potevi seguire la live da casa sei un pezzo di merda cosa vuol dire? se avevo 40 di febbre stavo male hai fatto i coglioni eh ho capito anzi a maggior ragione eri a letto a guardarti le live no dormivo molto probabilmente ce l'avrò io domani 40 di febbre confermo abbiamo sfidato il coronavirus oggi siamo andati a un centro commerciale che era praticamente mezzo vuoto poi l'hai portato fuori il sifetone due volte non hai abbastanza monete no perché? cocaver ben culato nessuno ha abbastanza monete ma io sono io ah come? scherzi quante monete avevi cap? 8 e me ne ha dato i 3 quando sono arrivato allora forse sono 10 10 ce ne voglio 10 ne ho 3 ed eccolo ma dai ma dai vediamo vediamo aspetta vediamo quanto costa adesso costa 13 no ho 10 o 15 no e vai e passa che buco in sella in sella si vede ho vinto è tutto per tutto perché ho voluto usare ah no no abbiamo comunque 8 niente vediamo dove va guardate guardate c'era male a fianco a me la volta scorsa è vero si quindi ha vinto vale ha vinto vale ah ma mi pare che mi avesse ceduto la coppa la vittoria vediamo la prossima stella dove si trova è la sua coppa ovvero bottiglietta di te mattina che ho bevuto io che ho bevuto tu si esatto perché sono magnanimo è dall'altra parte del mondo che era venendo la beve era d'annata che cazzo lo beve il tè che fa schifo io beh certo era anche tu e vale evento speciale no saclè oh mamma ma sono io si te porca puttana ho fatto casino eh si va che robo l'effetto domino guarda gabriel domino e aspetta adesso però oh ma sei matto ho fatto un passo questa è l'ira di gabriel mi hai fatto tornare indietro i quattro case cazzi tuoi allora dove che io volevo vedere un attimo il tabellone però voglio voglio vedere il tabellone il tabellone lo vedi con l'apposito tasto che è quello lì dove è la stella la ti dice anche il giro vedi praticamente deve arrivare fino a dove c'è il verde punto esclamativo e girare a sinistra ma li devi pagare il dazio al compo c'è ma stai zitto come torni te lo dici tra me tu allora voglio l'oggetto io voglio il fungo voglio andare avanti e userò il mio dado per fare 4 sempre se non becchi il ma bo e sempre interporeo perché scappava dal masso perché il masso era davanti alla sua faccia e voi sapete che bo diventa incorporeo adesso io ne prendo il fungo bravissimo e e bo quando scappa invece è tangibile ma com'è che funziona bo non mi ricordo no bo quando lo guardi diventa tangibile si intimidisce quindi si copre e invece quando ti giri le spalle diventa spettrale e fa ecco vedi infatti infatti lui arrivava in faccia e lui era tangibile quindi giustamente si è cagato cosa dobbiamo fare non lo so perché non l'ho mai fatto stiamo facendo tutti i minigiochi che io non ho fatto ok allora devi fare così e anche inclinare credo che lo scopo sia arrivare prima no devi tanto muoverti e inclinare a destra e sinistra e avanti ah ok perché a me non va più avanti ah no non devi fare così devi inclinarlo in avanti guarda che va da solo ah ma va era spiegato un po' col culo però ci sono le prove apposta voglio dire ok semplice ok semplice c'è come guidare su Mario Cartier dai problemi cazzo grazie a tutti i subboni io sono pronto ah scusate mi ero preso bene mi ero fomentato dove sono? ok io in basso a sinistra io in basso a destra che scomodità ahia infatti cazzo i tuoi oh chi stringe qua a foglioni cazzo i tuoi elevateli no alele uh bitch guardalo guardalo che è primo in classifica come sempre il campione di barili numero uno nel mondo vai nell'acqua sono l'uomo dei barili altro che va qua va qua ha qua che i numeri ha qua che i numeri orca puttenes ed eccolo il numero uno del barilometro vabbè secondo mi sta bene sono più bravo che su mario kart cazzo avevi anche gli aiuti in mario kart pensa comunque i laterali erano tanta roba comunque tipo timido e morto quello in basso a destra non si vede quello in basso a destra chi? ah perché è coperto dalla webcam l'altra volta andava bene così la webcam non l'abbiamo più cambiata vabbè ma tanto ragazzi vedete dall'altra eh dai l'inquadratura è sempre quella tanto non ero io con girella ero io dai dai amici me la sento vai questo mi copia in tutto è zitto guarda sono la numero uno gabriel dimmi tu è il caso che rimpicciolisca per animal crossing si hanno già progetti 12 ore e 20 ragazzi 12 ore e 20 mi raccomando anzi faccio un piccolo spoiler è già qua è già qua animal crossing è lì è già lì cioè è già pronto che succede? è già pronto spazio partner dai 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 cosa vuol dire? vuol dire che lei tira il suo dado e il suo amico tira un altro dado e può usare il dado del suo amico eventualmente si mi va ma mi pare che quello di wario faccia veramente caccare non so c'è il 9 wow no no 6 però potrei anche stare ferma potresti te l'era un po' a destra dove c'è gatto e impicciolino un pelo dove c'è gatto che sei tu? sono io vediamo dai si può faccio faccia intanto ah ok ok si effettivamente si può io non impicciolino ma si rischi ma si eeeh cazzo bestia scusate scusate permesso ragazzi vediamo cosa prendi cos'è? cosa fa? fai togliere meno due risultati del dado ah ah il fungo avvelenato era pure cattivo era il disco meglio? ara che lavori qua ara che lavori ti direi di si roba schei qui aspetta dove lo prendo il rafferro per ordinare animal crossing ci pensa Gabriel Gabriel pensa a tutto un uomo straordinario è fortunatissimo c'è signo da darlo nella tua vita è per questo che lo pago profumatamente non è vero lo dovete pagare voi durante il mod day il 10 il mod day il 20 il sub day che coincide con la 12 ore un evento imperdibile signori e signori non potete perderlo ah si mi ricordo voglio rifare solo ma è un gatto sotto no è al fianco attenzione la scelta dove è la strada ah si mi ricordo straordinario vieni qui si è di sotto è lo stesso è lo stesso cos'è il B-SUS? il B-SUS è una partita dove ci sfidiamo e si scommettono delle monete voglio il B-SUS io vabbè puoi perdere tutti i tuoi soldi non importa cazzi tuoi e non poterti prendere la stella non importa ah si mi ricordo il vibra minigioco ottieni monete in base a come ti faccio esatto tutti scommettono un certo tocco di soldi cosa ho bisogna conoscerlo il più possi scegli quanto sono dentro e puntare ah è randomico è certo ah non lo so vai hai detto scegli gioco d'azzardo 5 monete a testa non è un problema io non le ho quindi è difficile vabbè io ero già io ero già povero quindi e le vince ci sono ogni bari hai ragione 20 monete in pallino vai vai come funziona come funziona premi forte guarda che c'è un limite comunque il palloncino è scoppia occhio fermatevi quando credete che sia il massimo non si gonfia più il mio hai vinto tu no tu c'è lì tu però mi sa vedi bravo complimenti complimenti però ho preso il secondo posto di niente vorrete sapere una cosa triste no vorrete sapere una cosa triste io pensavo di essere v ma a me è una certa quando è scoppiata ci sono rimasta male poi si bisognava tenere premuto sai no no io smashavo no ma smishavo eh niente triciclismo c'è del triciclismo sono tristi oh mamma ma porca scusami ma sì ma in questo qui vado forte è come masturbarsi eh no è così cosa ne sai tu lo faccio non bene eh no forse è andata a prova così vedi che è tutta una devi muovere le mani come lì in alto è così che si cambia me lo prendo una volta a sì e due no guarda qua guarda qua guarda qua da scattini ma se faccio così guarda eh lo so non sono convinto non sei convinto lo fai ancora uh di pc devi stare tranquilla tu il tuo pratini i tuoi getrioli e tutto quanto come scusa lascia perdere mi faccio cagare ragazzi sono veramente impegnato mi scivola mi scivola no dai mi sei bloccato bastardo per un decimo io non sono arrivato per dieci decimi per figura devo allenarmi stasera per dieci decimi non ho più i polpacci dopo vado in bar i polpacci eh vabbè ho pedalato ho pedalato mi fa male i polpacci animal crossing animal crossing avevi visto tu che eri sconto prima no su animal crossing animal crossing si è in sconto da 70 euro soliti a 49,98 esatto dal link di gabriel 49,98 e ve lo portate a casa potete stare indietro allora no no mi è che pedalare fa male alle braccia ci li metto ci li metto sicuramente vi consiglio magari di prenderlo da instant gaming perché se vi arriva digitale potete giocarci già dalla mattina niente questo è quello che faccio io ci rimetto ovviamente perché anche se prendete la mia link di instant gaming ok ci guadagno no sai che non ho idea non che amazon paghi così tanto eh se non lo sai non cambia un cazzo paghi un te va bene perché ho fatto solo 4 ho fatto hai fatto 3 più 1 ah 1 scusa ho fatto 6 totale dedalus bu come fa a pedalare la spiegazione è sempre che se lo guardi in faccia è intangibile quindi ragazzi non fatevi domande vabbè lo so lo so che magari volete il gioco fisico però io personalmente soprattutto per quanto riguarda la switch ho abbandonato ma gioca pure intanto gioca ah beh scusate ho abbandonato il gioco fisico ero interessato al vostro sì visto che la 12 ore ma sei uno stronzo si stesse proprio un bastardo perché così per cattiveria toh toh velenati non quello che ha già una stella no però considerate che mezzanotte un minuto potete giocare quello digitale vabbè mezzanotte un minuto non mi metterei a giocare io sì se è un gioco che mi piace tanto sì no più che altro stavo dicendo visto che ci sarà l'evento della 12 ore secondo me è carino se seguite la 12 ore naturalmente se iniziate a giocare se iniziamo a giocare tutti assieme tutto lì cosa ho preso? un blocco una scosta poi se hai culo ti dà una stella ah devi avere culo devo avere culo hai fatto sette del due voto di fila gli dà comunque soldi sai tornare no tardi armonetta? mai? eh no però adesso torniamo tutti indietro un evento speciale no dai maledetto gabriel è sempre mistero chi caccia è stato? sempre gatto sempre gatto è uno stronzo però gatto nelle rovine non ci deve stare via 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 minchia uno indietro siete tornati fila la trappola domino così è guarda quanti indietro sei tornato ma io mi oppongo io mi oppongo io sono io tanto faccio due infuriata ma se uscisse in zero faccio due fai meno due tanto faccio due quello è tipo timido è bilanciato come dato sono quattro pensate nemmeno prendetelo digitale non ci avevo pensato effettivamente che c'è un grande impatto ambientale per quanto riguarda la plastica delle cose quindi il digitale butti via le confezioni no però la produzione anche perché tu non le butti adesso messo a fuoco tra 50 anni è anche probabile che tu Animal Crossing e per sui ce lo butti via oddio questo è un roba hai visto cos'è? cosa bisogna fare avvicinarti cosa dovrai mai fare con una lente scusami quando la fuoco ti devi fermare va bene io sono pronto organizziamo la serata fetiche dove tutti lecchiamo le caducce della switch un po' che schiavaico un altro gioco sei sempre tu che devi premere no non è vero premere Radana no ma è sempre tu sei tipo timido che abbiamo fatto due volte due volte io due volte lui sei attento hai bisogno di mettere a fuoco allora bestia che velocità ma scusami ah si mi ricordo stia che lontana anche dovevo stare metti entriamo la mano no non me l'ho preso comunque ultimo ma dai ho sbarellato per un attimo asasa 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 l'ho appena preso mi sto facendo vedere i sessi di colpa no no vabbè per carità non va bene ci sta ragazzi ragazzi pensate positivo lo prendete fisico fate lavorare me esatto perfetto a posto asasa asasa credo comunque che l'impatto ambientale di una custodia per per switch sia comunque inferiore alle cannucce usa e getta del mcdonald infatti oggi siamo stati e non ce l'avevamo ma già da un bel po' cazzo non l'ho provato non l'ho fatto uno l'ho uscito fino all'anno scorso no però lì non l'ho lì da me fino all'anno scorso cos'è il telefono a parte lo chiamano un altro partner adesso ma che buco di culo che tag è ma buco di culo ho fatto sempre sono ultima c'hai due parla ma stai zitto sono ultima lo stesso sono stato un paio di volte da mcdonald al mcdrive però me l'ha data la cosa la copertura esatto ma penso che per il mcdrive però infatti ti sto dicendo se tu mangi lì non ti danno la cagguccia se mangi lì non ti danno neanche coperti eh no appunto abbiamo un casino col vassovio eccolo peccato peccato però dicevano le decimali ci compri la stella dai 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 ma che palle che sei però è dov'è la stella la stella di qua la mcdrive danno il coperchio per evitare che vuoti la bevanda in auto si si certo ma certo buon uomo va bene grazie mille gentilissimo salve ma che culo bravo bravo adesso ti apro il culo dai è già due volte che mi sono passate ma le cannucce quelle fatte in non in microfibra no cartone magari fa un po' sotto sei mi state sullando tutte le stelle buce la sta mettendo tutta e ha ragione ce la stiamo mettendo tutta la stella datela a me non volevo io noi siamo ancora in dirlo che giro largo è alle mie spalle come ci arrivi tu lo sei mi mi ah ancora oh no le brutte cose cazzi tuoi oh no cazzi verdi le stelle dimmi che perdi le stelle adesso ti ammazza ti spara no ti umilia ti do il benvenuto eh sfiga 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 ferma sfiga sfiga ferma sfiga eh oh che uuuh aspetta si avvicina a me si avvicina a noi a me ma cazzo ma ha beccato l'unica cosa che non gli dà una sfortuna è veramente una cagata non è una ruota della sfortuna le cannucce di retone le danno forse le chiedi esplicitamente oh cosa voglio io c'era io la stella ce l'ho hai lasciato la lada per me no è tornata in un'altra posizione si no era tornata dove l'ha presa voi no no come no è dall'altra strada sei sicuro si vedi orca vacca adesso ci vado io se ci arrivi devi anche pagare faccio sette faccio sette ho capito allora io uso il dado tratto tanto come minimo andrei venuto sulla trappola uno due tre yes anche io un partner ed è Mario non è Mario no è uguale anche a me mi dispiace un sacco mi dispiace un sacco gatto è nata prima desi o prima pitch chi è la maggiore mi pare che che desi sia comparsa in Mario land possibile prima pitch desi è quella di 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 Mario non ricordo è nata prima pitch beh è nata è nata prima quella del sì quella azzurra no quella rossa quella rossa quella rossa quella rossa rapita da Donkey Kong che hanno ah ok quella che hanno rimesso anche in Mario come si chiama Odissey Odissey Polina Polina esatto che era anche in uno dei giochini per il DS e 3DS dove c'erano dei piccoli Mario robotici con Donkey Kong ma dai io vi odio tutti ma preso ma io tutti vi odio hai preso due volte la tua appola come ma ditegli qualcosa questi tre hai sbagliato si poteva sbagliare è sbagliato si poteva sbagliare tipo timida ce la sta mettendo e io ce la sto mettendo vediamo la prossima stella si trova datevela a me per piacere ma con i picci il fatto che vinca l'Ale non è da escludere perché il gioco può da quanto c'è letto gatto può dire povera Ale facciamo vincere l'Ale si non siete i galantuomini voi magari inciampa e muore no ma sfiga dai ma quindi adesso tutti quelli che vengono le stelle ce l'hanno il culo si io voi tutti si si poi hai preso la trappola due volte non è questo tranne io perché non prendo le stelle infatti perdi la stella perdi dieci monete perdi la stella ferma ferma dai un attimo 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti ti metti nei timi davvero sarà nel caso davvero perché a lui perché vado in macchina con lui la benzina una piega tutti contro tutti niente tutti assieme no non lo so cos'è la pertica sprint la corsa monetaria ma attenzione aia caos monetario quindi è la banca rotta muoviti a bologna mcdonald ah così aia ah così dai dai ma non è vero che mi ha preso neanche a me ma si ma è un gioco di merda ma si dai aia ma manca l'ale sto giro che farlo adesso pensano di essere tipo timido ma sono io tipo timido ricordiamoci che io ho vinto il mio stesso tombolone ma non ho potuto premiare perché sarebbe stato semplice l'ho vinto io il tombolone eh io no primo a vincere lo sono stato io io l'ho vinto non si può fare niente ma dai ma ho tolto tre monete che non ne avevo neanche io tre monete dove è andata ma perché la prospettiva è così canale non vedo e niente ah gatto bastardo ma chi è che è davanti qui chi sono io aiuto ah sono caduto gatto e cazzi tu hai chi ha più monete io tu però sono arrivato ma io ci che sta facendo scusa tolce io io più monete ma che culo sono tornato indietro a prenderle eh ma scusa non ho fatto che è arrivato primo no chi? è una corso monetaria ma era tornata in gioco perché non me l'avete detto ma era ovvio che tornavi ma no sono caduta subito hai preso tre monete e sei tornata subito dove io penso che fosse ma io sono fatti il caffè dove sono morta è stata una cosa di posizione di chi? ragazzi ti fate per ragazzi ragazzi io non leggo i messaggi su instagram perché sono troppi e non mi va di leggere solo e di rispondere a poca gente quindi per far conviccio non cago nessuno ma chi è chi? l'ale e i osci Dani è bu io sono tipo timido e il gatto è la tantatata perché c'ha la panza vabbè tutto bu io sono bu perché come me è bianco è tondo è pelato 1,2,3,4,5 e viva 5,5 5,5 no no non la prende no 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 deve scegliere si deve scegliere no 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 ma se lei adesso va avanti torniamo tutti indietro no eh che caso Daniela giochiamo io a testa partita non capisco non lo stanno ancora in daio no 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 nuovo Gabriel ma la mia domanda è come fai a prenderla quella stella è impossibile è impossibile perché c'è quella la che preme i bottoni senti tu la preme i bottoni eh ma devi passare per forza dal bottone no eh no eh beh se non ti ci fermi amici ma io cosa faccio vado al dottore sono un po' stronza si però vado a bermi il caffè magari lo vedo un po' lo volete anche voi il caffè per me torno a casa si lo volete bere subito magari che fa un effetto eh no no va bene anche dopo o meno per me va bene anche dopo ah sì ah no che sì cosa sì per me eh Ale dobbiamo giocare sì ecco le vado che sei vedi qua ti fanno tutti per per otto donne comunque sì ma tanto perde perché sono più simpatica ma non è vero vieni vieni qui vai cuccia cuccia seduto pronti che l'ha fatto sì 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 scegli quanti monete poche poche seduto sì ce ne ho scelta e qua sì siamo tutti sopra il 10 no ah è niente che non lo strappo perché c'è non so le vini che c'è chi è che deve premere sempre danni danni che caca scusate 28 monete in paglio pronti cosa dobbiamo fare la stessa cosa di prima ah no bisogna sentire la vibrazione più forte e premere quando è più forte e quindi ha vinto ma noi siamo arrivati a pari merito sì perché abbiamo premuto tutti quando era scarica ho premuto tardi sì tutti e tra non è pari merito era zero è perché l'abbiamo premuto tutti quando era la più bassa no quando abbiamo sentito in alto però era troppo tardi perché si è azzerato ah e queste robe da studiati sulle mani per la hall 5 più 2 no è stronza 6 cosa? stronza è una stronza quella è la mia volta è la tua volta se provate a rubarmi la stella tanto siete lì bloccati voi due mi ammazzo tutti o le io vado avanti di 4 in 4 cosa posso fare? questo è il negozio vuoi comprare qualche oggetto? ma domani vi verrete in modalità contadino qualcosa dal carrello qualcosa dal carrello caro prendiamo prendiamo tutto rimannaggia a te che ah ah subito ho comprato dal carrello ho comprato tutto vedi mini gioco come? come? peperini mi hai mangiato tutto tutti contro di te e quindi? e li so il cazzi tu oh amico mio ma perchè io sono quello più indietro? freccette a ventosa e quindi? e che non so allora ciascun giocatore in attacco ha 5 freccette da lanciare usare con attenzione per mettere l'angolo giù io posso usare mai giocato questo? non l'abbiamo mai giocato questo non ho capito se ti devo prendere penso di sì ahia danni è bravissimo a fare i predi vedi cosa serve giocare a lol dopo un po' però è impossibile scrivere tutto ah beh siamo pronti manca sempre la ala si stavo provando perchè ero fermo non sono bravo grazie a tutti e le super e super vi ringrazio il buon Gabriel mettete attenzione alla gente fatevi gli affari vostri non posso stregare ahia danni mi prendi ahia eh però non è giusto che quando allora ah dribbling non riesco dribbling non ho vita no mi sono incastrata ah ho finito ah si mi sono completamente incapace di prenderti fai sempre dai che è un figura di me quindi cosa hai vinto ho vinto io perchè non sono morto perchè una tre vite aveva vedi è colpa vostra tirare a cazzo io l'ho beccato datemi una dritta è l'unico che non ho tanto è vinto più otto scusami se non volevo niente e rimango il primo io sono sempre terzo e io sono sempre quattro sono quello che vince ma rimane sempre te perchè? perchè sei la sega perché ragione allora vediamo di fare meno schifo quanti aiutanti hai lì tra l'altro c'è un piccolo par della compagnia dell'anello sta facendo un gioco tutto suo 1,2,3,4,5,6 ah dai dai 7 mi sa che non c'è l'unico se preme il bottone potrei prendere ancora l'ottone ti mandiurlo ma dai il dato magico ah qualsiasi ah minchia puoi scegliere tu ti tocca prendergli alla prima non so se ci arrivo sei lì sei l'unico che ci può arrivare tra di noi prego eh non so se mi sa che ho trovato i spazi perdona ma l'hai finito di romperti stavo leggendo con i picchu che mi stava facendo i complimenti perchè gioco a LOL possiamo cliccare i picchu per 5 minuti per favore nooo nooo vedi a giocare a LOL eh niente i picchu LOL è una merda lo sappiamo ragazzi lo sappiamo ci giochiamo entrambi occhio malocchio prezzemolo e finocchio grazie Gabriel prezzemolo e finocchio occhio malocchio non so se tra 5 spazi eh no a me si è giusto acquisto signorina faccio girare il mercato fatturare fatturo la stella fattura faccio fattura signorina non penso che i funghi facciano fattura io te lo dico guarda che pod fa tutto in nero tutto in nero si 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 c'ha la faccia del delinquente guarda che io sono sempre perso grazie Gabriel ma l'hanno acchicchiata per davvero con i picchu vabbè certo donde? ma che buco di culo scusate è lì? ah no è dall'altro lato si l'Ale ci può andare però adesso ah figa proprio dall'altra parte semplicemente lì scusate mi scusi signorina no no non posso guarda di qua guarda di qua ma l'ha accontento del cash dai mi accontento per la tua moneta eh sì delle volte basta nuovamente allora tocca a me allora che padre era impassibile lui ha riso mi hai rubato la stella schifoso era mia quella diteglielo ho messo a te di stella ditegli che è uno schifoso c'è un cattaro in bocca mi sono mi sono di buco che schifo dritto di andare no non so quanto guardavo cosa di qua no di qua è la sfiga guarda prestizza premo il tasto ma tu devi andare giù prima allora vuoi prendere la stella no allora la corsa ha rotto la barilla no ancora non penso ce l'ho in tasca e la sentirei ancora ancora questo lei non lo so fare questo faccio dai ma basta perché venite addosso io vi odio ma c'è perché devo girare se no vado nell'erba non girare ancora aia cacchi vostri toglieti ma che schifoso guarda quello lì ultimo sono arrivati no 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 ma che sfiga ragazzi due secondi di distacco non hai neanche finito due secondi di distacco non c'era non c'era il tempo mamma mia mamma mia ci chiamavano le gare quando fanno un culo allora le gare mi chiamavano Valentino Bussi tanto quando guarda te non hai neanche solo stella se non sarai qua eh tre turni rimasti ricordano ah ma è già finito ok eh beh quella di poco non c'è neanche messo sei mesi attenzione mancano solo tre turni tre turni adesso cambia la situazione adesso intanto fa un pronostico che di solito mi porta sempre sfiga pronostica mi iniziale tanto un peggio di tutti non può essere adesso dice che vince la ponix come fa aspetta aspetta c'è l'esperto arriva l'esperto eccolo qua l'esperto ecco te l'ho detto tutti in me avvoluto sì sì guarda eccolo qua l'esperto alla faccia dell'esperto mi pulo rotto ecco vedi ti dice che il tipo te l'ha tirato c'è neanche quella però guarda perché in realtà ti fa anche un regalo di solito ah sì puttana questo mi garba neanche il coso dell'esperto neanche quello proprio neanche una gioia manco una grazie comunque ponix come fa Boston Ipay sul barile la risposta è sempre quella se lo guardi è tangibile esatto attenzione però ci sono anche gli spazi rossi che tolgono sei monete sì e adesso è tutto doppio più sei meno sei ha detto per ribaltare il risultato sì ho confermato ma guarda che questo qua è dannata è mica le brutte cose diventano un dramma incredibile guarda lui trasforma tutto adesso vedi se prima ti andava di sfiga adesso è sfiga nera ti ammazzano il cane adesso se finisci no eh sì te lo regalano e te lo ammazzano ah vieni qua no vedi è strafortunato andiamo in cuscini ti danno fuoco la macchina no portami un po' di fortuna te piccolo salame dai adesso vediamo di farlo io l'ho carezzata è iniziata a perdere quando c'è è arrivato hai pancre però non lo lanciano no no tu puoi fare al massimo sei con questo e non so quanto ti serve eh infatti adesso vado a vedere ecco lì l'idea tabellone è ma che è che dato fortuna ah da 4 spazi c'è 4 spazi che dato fortuna se puoi fare comunque uno ti conviene farci scegliato il risultato o 6 5 o 6 dove è la devo andare giù di là sì 3 4 5 se fai senti da un altro padre quanto posso averne non so se ci vuole idea sinceramente 4 5 6 ne faccio 6 credo che non ci sia un limite dei partner perché non basso e giù devi fare un certo oggetti non si muoveva non si muoveva non si muoveva stai zitto devi stare zitto quando parli con me non si muoveva devi stare zitto quando parli con me oh quanto stiamo qua sei buono sei lì devo capire la sua attitudine a mettersi a 90 non ti chiedere ma no è per farlo cavalcare c'ha la sella c'ha la sella e dai sempre a pensare male la stella l'ha pagata 20? no no però mi ha fatto molto ridere la prepotenza con cui ha schiacciato tipo si si da non frega niente grazie grazie non so neanche leggendo guarda guarda sono ultimo ma questo c'è il cellulare che chiamiamo partner ma tanto ne ho sempre più io ma tanto ne ho sempre più io è il posto bellissima e dove va? dove va? vicino a me dai dove va questa piccola stronza? piccola stella senza cella ma è già lì? ah no? eh sì ed è mia e io devo fare tutto il giro adesso però pure io ma no mi ha fatto male i conti perché? sì scusa mi è arrivata lì perché la stella non conta spazio ma non ci credo ma è comunque ah si è andata avanti di uno giusto vabbè ne sono presa comunque beh tu ti porto direttamente la stella appunto però tanto la prenderete lui adesso la prende lui eh dai tu sei lì dai mi ti stia lì stavo cercando stavo pensando se rischiarla o no come? perché non dovresti rischiarla? eh perché mi può anche dare meno due ma c'è la stella a me le due meno due sì prendiamo la stella io ho neanche 10 minuti per comprare che stella magnifica vero ed è tutta tua grazie dai ti fate amici basta che non ti fate per me perché è tanto inutile puoi far partire uno stropolpo e vedere chi vince dal telefono non credo sia possibile fare niente e farlo da lì no? no devo andare di là non puoi farlo da qui? no puoi farlo da qui? no puoi farlo da qui? no puoi venire vicino a me? amadeus lori amadeus è venuta vicino a me però da bene? me ho conness ho detto lo piglia lei e avanti si ma tocca a me prima ho capito ma non ci arrivi tu ha l'aiopante? no ti faccio un cane adesso e lei che si intromette io ti difendo mi cominci Gabriele dovevi fare un astroporco no potevi darmi la stella beh accetto le dieci monete beh io con la stella ma cosa è? zero e quindi? vabbè come è il caro solito? no no le da a tutte non è a niente purtroppo la dinamica di Gio ne ha dato 8 a tutti e se ne è fatta per niente e se ne è fatta per niente scusatemi tu capisci però adesso? adesso compro qualcosa dal carrello qualcosa dal carrello ancora lì del carrello no si dovrebbe no non era il bluco la farfalla scusa e che se non vende? ah si 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 mi piacerebbe una stella la pago anche volentieri perché torniamo questa stella che la togliamo torniamo ovviamente al mio contendente favorito ma dai ma sono a zero non è che il soldo va avanti caro mio ah dai si ribalta la situazione no non è vero per me si per me si per te si hai pagato 30 monete però magari volentissima c'è 30 c'è 3 stelle si però mi sono fatto farfattura hai fatto farfattura? apposto mi sento scusa mi sento dei suoni da di là è vero ci sono sarà partita Siri gatto dove vai? non non so non so perché si è partita la musica che dire ma se lo stroppo veramente amici ti fate per me ragazzi non ti fate per me e usciremo vittoriosi è la partita rosanna dei toto miei ragazzi ma tocca ancora a me io ragazzi sono davvero triste queste infamie secondo me non andrebbero fatte allora da Madeleine si è portato bene si no 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 come? no non volevo bravi bravi ragazzi non si può annullare ho premuto questo mi ha fatto partire comunque il dado prova come? premere B? non puoi non ho bisogno di beauty è fra 5 spazi figa uh davvero? ma che sfiga eh ho premuto per gli oggetti ma cosa fa? prossimo giro eh grazie figa questa vabbè non parlo potete mandarmi un emoto molto triste per favore cannone abbatti blocchi minigioco uno contro tre no ma no did ma guarda io non so siamo tutti contro Dani io non so ragazzi siamo tutti contro Dani certo non ho capito cosa cosa bisognerà mai fare capo spiegami un altro ah no perché siccome quella con Ale prima era in è un versus chi butta giù per primo vince tra noi e te ok poi c'è il cannone più grosso vabbè ecco perché ma non vanno giù veramente una merda eh dove stai sparando? stai spavendo? no ma stai sparando non stavo guardando non mi interesse scusa via guardiamo dall'alto facciamo un lavoro pulito bravi bravi tutto giù tutto giù io faccio un riscolato qua dai dai su su forza e coraggio ci siamo quasi ci siamo quasi quasi l'ultimo ultimo 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 no ha vinto prima lui mi sa no noi amici cazzo sai che avrei detto lui? ora olè e questo ci vale monete aggiuntive guarda che ho due ben due cazzo beh puttavia la donna bagna zero come truffandina io l'ho pagata la stella ma sono seconda si ragazzi ricordate non giocate mai d'azzardo perché altrimenti finite come me hai vestito tutto ho perso tutto allora oggetti grazie due monete la metà sotto chiacchia votato tutti in piergi arriverà la vittoria ragazzi dai beh no sono comunque su ha amici unitevi a me dove va adesso la riprende adesso la riprende perché si sposta ma si sposta a fine turno spero no 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 si sposta subito si sposta subito può prenderla guardi chi ma sei monale come partono cose è monale ragazzi votate dai si può vincere per simpatia eh no perché dico io quello è non c'è un canale mio apri di un canale tuo cosa vuoi se vuoi dire qua è mia dai dai la foto è invisibilio attenzione dammi dammi la stella dammi mi sveglia signorina dove è andata le scommesse sono organizzate da quel mafioso di Tom Nock che sarà Nock ma tutti che hanno votato un lale sbagliato ti stai io voglio i miei voti hanno votato me eh sì ragazzi avete perso tutti mi dispiace allora di là per la kitu quello di qua spazio non posso più riscattare la cacca o Gabriele credo che andrò no cazzo non era una bella idea andare di là cosa? non posso più finitolo come premio è di qua versus però è per forte se no ti no meglio il versus eh beh l'altro è di valore ma io voglio farlo durante la live è impossibile cosa succede? devi arrivare prima madonna mi stavo già caccando sotto ma c'è una mattina che vento si pronuncia cazzo la sua non c'è la connessione sanguinaccia ha votato me a stella grande sanguinaccia alle 8 e 40 si deve fare tutto il giro comunque fare tutto il giro sto malissimo io domani sono malato penso io che ci sono a fianco perché cosa è successo? è stato bellone ah cosa sta succedendo? tu stai buono prego ci possono usare due oggetti insieme? no eh lo so che le monete non basta bravi votatemi che pelo però che roll non muore mai si finisce un rosso ovviamente tocca a me sarà passato 8 io non ho ancora mai visto neanche l'ombre di un oggetto c'è tra stelle perdente ma ancora ti la me ancora frutto frutto del sudore della mia fronte è altro che penso che il sudore si è dovuto ad alto la mattia con desi dietro piccola scocciatoia io non ho prendi monete io non ho prendi monete di oggetti ciò uno si chiama un partner però si non so 5 ho risultato del dollar 5 diretti ma faccio 9 al massimo col partner ti da massimo più 1 più 2 o ma forse più 3 non so quanto ti con me che ho dovuto darlo adesso ti conviene prenderti il partner no secondo me no è l'ultima non ci arrivo alla stella non ci arriva alla stella non ci arriva comunque non so però magari gli da un partner buono e viene è un 6 o no cosa vince nel finale magari dice ehi tu hai avuto il partner più adatto gli dà la stella c'è il 9 c'è il 9 c'è il 9 c'è fallo tanto dici ma è sì tanto comunque per far schifo per far schifo non basta comunque non basta comunque però è più di quello che avessi fatto vedi però guarda dove vai a finire qua vado il visus ah perché si chiarava di lì eh scusa è quello che è l'elemento speciale è la sposta dei sassi ok l'ultimo minigioco ma c'è un altro turno dopo no no come pare oh sì forse l'ultima dopo ho buttato degli soldi scusa ho comprato non era 9 no no come funziona quella situazione bisogna bisogna scoppietare i palloncini altrui vabbè abbastanza relativamente semplice vogliamo ma scusa ma ma avete pure gli assistenti voi beh subito shottato no è il predict avete pure gli assistenti voi che vince e vince infatti ragazzi sempre lamentarsi prima del domani maiale ragazzi questa è skill no maiale è la skill di lol è la skill di lol è la skill di lol è comunque l'ultimo miniera si sono per me l'ultimo miniera vedi 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 sotto di me ma io non mi sono tra quattro spazi si ha detto prego vabbè c'ha 60 persone infatti per quello ecco già così lo prendo ma allora quattro spazi ma che cazzo è questa stella è lì ma che cazzo è di qua ah di qua si va bene ma io perché sono andato giù dritto perché ero già lì ma tu non sei dove andato giù dritto sì sì tu sei adesso vai con lo spazio fortunato però dopo è vero quindi potresti cedere la tua stella a qualcuno tipo me tipo me a me no stella ottenuta il mio vuo è messo così male che ormai ti fa per gli avversari quanti movimenti ti mancano? diciamo alla prossima stella si trova all'inizio partita mi ne mancano un crossbow e prego è mia questa un po' forte c'è il tubo perché sei? il gatto sul tuo rosso sì bravo tanto vediamo tu a chi regali la tua di stella non è vero che contro un altro non gli serve? può? non è illegale questa cosa? non c'è più il roster quasi cazzo l'ha preso tutto l'ale il roster amici è tutto roba vedete avete fatto bene è tuo fratello ed è anche mio fratello quindi magari ho pure il plus comitiva figa saluto a Farence che è via del senso è vero saluto cazzo potrebbe prenderla lui da un'altra stella tra quattro spazi si dai ragazzi mettiamocela tutta io ragazzi quando dico che ho sfiga in questo genere di giochi io mi intendo davvero che ho sfiga diciamo da basso in palizzo dai dai no bastardo tu puoi fare del negativo no puoi fare più una stella e non muoverti non so fare soldi non so fare soldi ma c'è comunque dei solità fa su tre stelle ma dai questo riesce comunque a essere un'altra lei sempre lei tira sempre deflex fai bene a non commentare perché non c'è da commentare è davvero incommentabile no ragazzi dovete capire che io e Dani siamo ospiti quindi facciamo vincere gatto ah sì sì assolutamente dovrebbe essere il contrario eh no sono gentili ah anche prima della live gli ho detto guarda se capita che devo devi prendere una stella prendi la me c'erano già messi d'accordo in realtà è tutto scrittato io oggi come ero vinto smash tutto stingiato in verità io le mie stelle me le sono catturate con il sudore della fronte mentre invece il gatto le ha rubate agli altri con il sudore della fronte dei soldi spesi comunque ricordiamo comunque le ha rubate faccio un altro che le aveva guadagnate giustamente altro che me ne fa ormai il gumba è il mio amico il gumba magari stai zitto 7 marroni uguali sono i bonus alla fine sì però no è difficile perché anche lei ne ha tre nei tre no ma è fortissimo il dato al gumba scusami minchia ti dà anche uno dai anche il mio perché non prende anche il mio fa così ha dei numeri diversi allora non getti voglio ah ce la puoi fare dovrebbero farlo vedere però il dado allora all'inizio perché non sapevo che è quello di però sì è quello sì è un po' una stronzata quella cazzo c'è è tra tre spazi non lo prendi adesso non ci arriva adesso sbaglia sbaglia a strada intanto paga paga il dazio pago 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 tutto c'è moneta abbastanza dura finché non finisce ragazzi ormai siamo praticamente in fine finì l'altra cinque minuti sì meno pago tutto pago potrei ancora riprenderla giusto perché si sposta prima vero? sì se si sposta avanti non ci arriverà mai così tanto culo nella mia vita se si sposta avanti la puoi prendere stella ottenuta non ho capito perché di solito in realtà andava sempre in ordine adesso questa è l'unica partita in cui non è andata in ordine ne lo manca non va in ordine lo faceva sempre infatti era una stronzata non è che gli ho fatto cambiare posizione una volta non è mai più tornata a parte adesso sta tornando indietro adesso sì ma non è tornata a metà non ho capito sta andando proprio una domica stavolta non ho malo meglio meglio sbrigarsi signorina alla fine non so sì io infatti avevo preso due stelle in un turno perché si era spostata esattamente alla cosa dopo ciao Daniele ed è finita ragazzi vediamo adesso chi è il vincitore di gioco no sì ah no sì a che serve ci saranno dei premi sui minigiochi un affanno oh no cos'è cos'è bisogna contare tutti Todd no dai non ci credo no devi contare i Todd fare su per contarli ok o giù cioè devi contarli e alla fine ah ma devo ah capito vai minchia ma sono eh sì coronarica avanti dietro i bastardi no è gioco il merdoso di tutti amici ma li stavo contando c'è la mia cosa sì per me sono giusti cazzo vinto da bravo 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 come ha fatto contare così pochi perché io ci sto parlando con quello strondo mi sto sul coglione sempre stato sulle balle Todd a me ha confuso quello che correva avanti e indietro perché avevano contato un paio di volte sulle balle perché mi ha aiutato perché posso sempre contare su di lui vediamo l'annuncio dei bonus attenzione ciascun bonus compilisce una stella il primo bonus è attenzione bonus partner eh chissà chi lo dà bonus partner si è trovato questo partner è l'ideale attenzione attenzione potrei essere io potrei essere io io ho il mio capo tecnicamente e sono io bravo perché siete marroni tutti e te l'ho detto che era per il marrone ma no no sì sono io fratello ma non è fratello ma che il fratello di chi ma sì ma no ci assomiglia solo ma vai in culo ma una tartanuta bonus sfortuna abbiamo trovato no ragazzi non ci sto prendendo questa è una congiunta dai a cap e tu nello sfortuna la fortuna anch'io io non ci sto credendo questa è una congiura bella e buona facciamo schifo andate a cagare verdosi la proclamazione chissà chi è ho la pelle docca dell'emozione ho la pelle docca come che ma è ovvio come stavolta si sa ma sì ma che emozione sei tanta roba applausi al padrone di casa io non glieli faccio io ho vinto a smash nessuno ha le prove di questo sono secondo 5 stelle ero quarto eh 5 2 stelle di stacco dove vai? ce l'ho più monete io però chi è che fattura? ma la stella vale di più e comunque io che ho trovato 3 partner diversi non hanno fatto hanno fatto il partner migliore invece che il partner quello che aveva più partner andate a cagare il gioco del merda io ho vinto a smash complotto è stato bello è stato bello? sì è stato divertente? giocare con me no verso la fine no però è stato bello ti rendi conto che sono riusciti a premiarci perché siamo quelli più sfigati? pensa io sono talmente sfigato che non mi ha dato neanche la soddisfazione di essere più sfigato no per me io te li incoppia sempre quindi i foglioni mi ringrazio Ale Cap e la mia signora che ce l'ha fatto grazie a voi quest'oggi noi ci vediamo domani mattina con l'aratura dei campi e parleremo del coronavirus esiste o no? basta ospite speciale il coronavirus Fabrizio Corona che penso se lo sia che parla di se stesso visto come sto e provate giusto aspetta tieni grazie ho vinto la testa di fagiano vieni a salutare prestigioso premio vieni bravo bravo lo regalo al mio cane tieni non lo voglio ormai lo distrutto bastardo vieni qua no che c'è il cavo no che c'è il cavo vieni qua dai qui bravo e vada a capo va bene è il mio premio di consolazione grazie a tutti per donazioni super e super come sempre a domani mattina e devo alzarmi ciao non ho più batterie viva Gabriel sempre